Dal primo luglio parte il monitoraggio mensile dei tetti di spesa in sanità, ci sarà un controllo quotidiano degli esami che si fanno, indaghiamo sui 50 medici che fanno più prescrizioni sui laboratori e cliniche che fanno più esami. Lo ha annunciato il Presidente della Giunta Regione della Campania, Vincenzo De Luca. Ha spiegato che da luglio non si fermeranno i servizi ai cittadini, che i controlli si faranno attivando i servizi informatici della Regione che non funzionavano. Il Governatore ha annunciato controlli spietati, spiegando faremo un accordo con la Guardia di Finanza per controlli nei laboratori e dai medici. Appena registriamo un picco di analisi o prescrizioni arrivano i finanzieri e i carabinieri, oltre all'ufficio di controllo attivato in Regione per le verifiche. Il 90% dei centri di analisi è fatto da persone per bene. Poi ci sono fiori di farabutti, dice De Luca, che fanno un eccesso di prestazioni di medicina nucleare, visite inutili, la prova da sforzo, tante porcherie, dice De Luca, da cui dobbiamo liberare la campania e la sanità. Il rapporto Ambiente Italia presenta una fotografia di questi impatti con dati davvero inquietanti e studi che dimostrano come sia possibile invertire questa situazione attraverso un cambio delle politiche. Sicuramente il caso del grande progetto interventi di difesa e ripascimento del litorale del Golfo di Salerno non va in questa direzione. Lo afferma Lega Ambiente Campania, commentando i dati emersi dal rapporto in cui viene dedicato un focus sul grande progetto interventi di difesa e ripascimento del litorale del Golfo di Salerno, Ponte Cagnano, Battipaglia, Eboli, Capaccio e Agropoli della Regione Campania. Lega Ambiente sottolinea infatti che l'opera prevede la realizzazione di 42 pennelli a T, tre pennelli semplici e quattro sistemi di protezione a celle costituite da strutture combinate e pennelli barriere soffolte per un impiego complessivo di circa 1.200.000 tonnellate di massi calcarei. Queste strutture di tipo rigido, poste a poca distanza le une dalle altre, dovrebbero contrastare l'erosione costiera salernitana proteggendo i sedimenti sabbiosi. Ma quanto lascia più perplessi è che nel suo insieme quest'opera trascura un approccio sistemico per risolvere il problema dell'erosione costiera risalendo alle cause. Il progetto viene criticato anche da Michele Bonomo, presidente di Lega Ambiente Campania, il quale sottolinea come le attuali politiche di gestione delle aree costiere europee e di altre regioni italiane sconsigliano l'utilizzo di simili strutture. Inoltre il grande progetto disattende gli indirizzi europei in materia di salvaguardia degli ambienti naturali e di tutela dell'esistente. Qualcosa non ha funzionato nella società degli adulti, anzi la vicenda che ha visto coinvolto una giovane sedicenne della provincia di Salerno parla di un vero e proprio fallimento degli adulti di oggi. Il comportamento di giovanissimi che in branco si viziano una loro coetanea ricorda più i documentari che studiano gli animali che il modo di relazionarsi che si dovrebbe tenere all'interno di una società evoluta. Lo afferma la garante per l'infanzia e l'adolescenza Filomen Albano. L'indignazione rischia di essere inutile o sbalordimento ipocrita. Dobbiamo ragionare, osserva Albano, su come sia possibile ricreare legami interpersonali basati sul rispetto dell'altro e sulla affettività. L'esempio è sempre il primo insegnamento non verbale e forse in questa direzione anche noi adulti abbiamo fallito. La civiltà non si conquista solo con le scoperte scientifiche e tecnologiche ma con la cultura della convivenza e del riconoscimento dell'altro, del suo diritto ad essere felice. Per guidare i nostri giovani, suggerisce la garante per l'infanzia e l'adolescenza, occorre agire in prevenzione partendo dall'educazione alla affettività e attivare un processo di cambiamento e di ricerca di nuove risposte in aggiunta alla mera punizione. In questo modo noi adulti, conclude Albano, potremo avviare un percorso più coerente con la civiltà a cui aspiriamo. Il Comune di Napoli ha concluso l'iter per l'assegnazione della gara per la fornitura di 10 nuovi treni della linea 1 della metropolitana. L'aggiudicazione provvisoria è andata alla società spagnola CAF, la commessa è finanziata con 98 milioni di fondi POR. Il bando prevede che il soggetto aggiudicatario dovrà progettare, costruire e fornire al Comune di Napoli nuovi elettrotreni con la consegna del primo treno entro 18 mesi dalla giudicazione definitiva. I successivi saranno consegnati a seguire uno ogni 45 giorni. Per questo acquisto è stata scelta la formula dell'accordo quadro che garantirà, reperendo ulteriori finanziamenti, anche di ampliare la fornitura oltre di 10 treni. I nuovi rotabili, l'ultimo treno consegnato risale ad oltre 11 anni fa, insieme al rinnovamento della flotta su gomma iniziata nel 2016, metterà in condizione di raggiungere gli standard di servizio indicati dal Comune di Napoli a garantire un'offerta di trasporto in linea con le aspettative dei cittadini.